Per me Scena 1, prima E azione Il bambino avrà uno zaino con sé E Facciamo questa standicam Ma perchè viene fuori standicam? La Questo è un fuoco Di passaggio sulla scritta Paradise Giriamo la camera e rinverniamo tempo Fermo lì Ok? Facciamo tutto come abbiamo provato fino adesso Va bene? Parti dalla sosta però Non partire dal biglietto Vedi lì Da là Fermo Ok? E azione Cazzone? Il bambino entra Si guarda tutti i pasticcini Lei se lo guarda Ma di che vuole questo? Ma si accorge? Sì Cosi cose tecniche noi Beh certo Provate Mi segui? A vivere quello che sta succedendo E non a farlo meccanicamente Se io ti ho detto di fare una cosa Tu prova a viverla Ragazzi io dopo che ho fatto il primo piano di lei Devo fare solo il televisore Sì Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ma ci pensiamo un po' alla coerenza che possiamo avere di questo racconto in questo momento Allora ci sono delle fasi Possiamo dire che questa qua è la prima Ok? Che non è un risveglio Non si sa bene cosa è Ok? No Let's stop 2B Terza Prendi la bottiglia Te la guardi Poi guardi lei Tu gli devi fare un bel sorriso Prometti Dopodiché guardi il mare E avanici Ok? Ok I due crescono Grazie a tutti Buongiorno Ciao a tutti. Buongiorno. Buongiorno gente. Buongiorno a tutti. Riprendimi mentre mi vola il parrucchino. Buongiorno a tutti. Andiamo a fare lei lì nel vicoletto che viene a precedere e io farei anche sia col sinko. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.